Sono con Massimo Battista, collega consigliere comunale di una città per cambiare Taranto. Guardate questo video, guardate cosa fa il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Lomuzio, Liviano e Brisci e per motivi di salute la consigliera Mignolo, alla quale auguro una pronta guarigione. Grazie, grazie, dovete vi consigliare? Ciao sindaco, il consiglio, come dicevo, poc'anzi ospite. E allora non solo il sindaco dopo pochi minuti scappa via, lascia il consiglio comunale, ma si fa anche beffe dicendo godetevi il consiglio, come se lui fosse estraneo rispetto all'amministrazione, rispetto al consiglio e quasi ci deridesse. È evidente, Luigi, che le pressioni sono tante, il sindaco non ha più una maggioranza, la maggioranza lo tiene sotto scalco. Ieri voleva qualcuno che ci fosse il passaggio in maggioranza di Italia Viva. Il sindaco durante la seduta di ieri mattina ha preso e se ne è andato via sotto la nostra pressione. Noi ci stiamo incalzando tantissimo questa maggioranza. È evidente che il sindaco non ha più i numeri per portare avanti la macchina amministrativa. Riguardiamo queste immagini. Pensate un po'. Il sindaco che evidentemente considera il consiglio comunale come una cosa così, al punto tale che si fa quasi beffe, dicevo, gli viene quasi da ridere. Godetevi voi il consiglio. A che punto siamo arrivati? Da chi siamo amministrati? Il Lomuzio, Liviano e Brisci è per motivi di salute la consigliera Mignolo, alla quale auguro una pronta guarigione. Grazie, signor. Il consiglio comunale come dicevo, poc'anzi ospite.